Buonasera cari amici, sono Maria Rosa Bersanetti del centro Teccio Sammi Menciolini di Belvedere Langhe, provincia di Cuneo. Questo è un ciclo di incontri che noi svolgiamo al martedì per avere un Buddha per amico. L'argomento di oggi è quello di come curarsi del tempo piacevole delle vacanze. Quando c'è il caldo, quando c'è il sole, il tempo è molto bello, siamo invogliati a fare molte attività anche all'aperto, specialmente adesso che siamo liberi dall'obbligo di stare a casa per la pandemia che abbiamo appena passato. Quindi tranquillamente possiamo farci dei piccoli progetti anche quotidiani di come fare che la nostra casa, la nostra attività estiva sia gioiosa e divertente. Se non possiamo fare delle vacanze perché comunque siamo impegnati, dobbiamo lavorare, abbiamo degli impegni, possiamo comunque avere delle piccole vacanze quotidiane, dei piccoli spazi in cui noi ci ristoriamo con il colore, con le cose belle, secondo chiaramente le nostre possibilità. Se riusciamo a avere un luogo all'aperto o comunque anche una piccola coltivazione di fiori sul balcone o comunque riuscire a fare una piccola passeggiatina, quello che è un'area verde, sicuramente molto utile per la nostra salute perché avere contatto con la natura ristora interiormente e anche il nostro fisico ne ha dei grandi giovamenti. Il contatto con la natura, con il verde delle piante, con osservare anche gli spazi molto grandi, tipo osservare il cielo, aiuta molto ad aprire la nostra mente e anche a rilassare le nostre tensioni interiori. Quindi c'è il cielo, sì, spesso noi non guardiamo mai al di fuori della finestra e questo può creare dei problemi anche di blocco psicologico sulle nostre problematiche, su quello che dobbiamo affrontare quotidianamente. Invece aprire la finestra e osservare il paesaggio, prima cosa molto facile in cui non bisogna fare nulla che non quello di proprio aprire soltanto la cremonese per respirare un po' d'aria fresca, questo sicuramente ci giova in ogni momento della giornata. Cosa facciamo? Noi apriamo la finestra, espiriamo profondamente e inspiriamo, quindi riossigeniamo le nostre cellule, la nostra respirazione e l'agiovamento perché riusciamo a riprendere di nuovo l'elasticità polmonare perché se siamo sempre fermi, concentrati quando lavoriamo al tavolino oppure quando facciamo anche dei lavori manuali spesso ci sono, siamo tesi nel finire i lavori o continuare quello che stavamo svolgendo in quel momento, quindi stoppare, avere una pausa sicuramente è una cosa di molto beneficio alla nostra salute interiore e come se ci prendessimo una piccola vacanza durante il nostro quotidiano. Quindi noi apriamo la finestra, respiriamo profondamente e svuotiamo completamente la mente, facciamo una piccola, non dico meditazione, ma un atto di consapevolezza sul momento presente osservando lo spazio. Lasciamo il nostro sguardo completamente attento a quello che è lo spazio, osserviamo il cielo, espiriamo ed ispiriamo profondamente, questo per alcune volte può essere un esercizio che noi svolgiamo per un minuto o due, non è importante stare molto ma proprio avere questo momento di stacco, di piccola vacanza durante la giornata. Altra cosa che noi possiamo fare è molto molto positiva è quella di pulire le verdure. Se non riusciamo a fare una passeggiata nel verde, se non riusciamo a avere un orto, se non riusciamo a coltivare qualcosa in qualche modo o pasticciare con la terra, con le cose manuali di utilità quotidiana, possiamo benissimo fare in questo modo. compriamo un po' di verdura e ci facciamo un bel minestrone. È impegnativo fare il minestrone, specialmente se si parte dall'orto. Se invece noi partiamo dalla spesa già abbiamo diciamo due terzi di lavoro risparmiato perché comunque l'orto comporta già altre attività più complesse. Quindi noi andiamo a casa, ci portiamo la nostra bella spesa variopinta, anche due carote, due patate, due cipolle, un po' di tutto quello che ci piace, che fa parte dell'orto, specialmente i zucchini che adesso c'è un po' più il boom di tutto in natura. L'amico contadino anche può essere una cosa carina, fare l'escursione dal nostro contadino amico e fargli la spesa sul momento in modo tale di magari collaborare così, vedere un po' come lui fa, può essere anche una escursione istruttiva su come si curano le verdure e quanto importanza hanno perché fanno parte della nostra salute. Ci facciamo il nostro caro minestrone che comporta comunque un po' di lavoro, nel senso che se noi compriamo i findus surgelati nel superman che lo mettiamo in pentola e non è il gioco giusto. Se invece noi usiamo una manualità che in un certo senso abbiamo anche un po' perduto, a fretta, bisogna mangiare di corsa, invece noi ci prendiamo uno spazio nel curare quello che diciamo in gran parte del mondo si curano e ma gli occidentali sono abituati ai pacchettini già belli pronti che buttano in pentola ed è tutto fatto. Invece così diventa una manualità anche rilassante in modo di scaricare le nostre attenzioni quotidiane e fare in modo di dare attenzione a quello che è l'aspetto importante della nostra vita la salute e l'attenzione alle cose importanti. Un buon minestrone è importante sicuramente. Questo durante l'estate sono cose che si possono anche fare in modo piacevole perché è chiaro avere contatto con qualcosa di naturale è un po' più facile che noi in inverno che magari uno ha fatto già le scorte, l'inverno è tutto già un po' fatto ed è un po' più difficile e può avere questo aspetto così di hobby piacevoli per dare attenzione a quello che è la nostra salute. Lo facciamo proprio come un regalo salove di un po' di amore verso la nostra persona, verso il nostro benessere. Quindi abbiamo già visto due cose carine. Il fatto di prendere una boccata d'aria prendo la finestra e facendo un momento di consapevolezza ossigenando il nostro le nostre cellule con una buona respirazione chiaramente e non deve essere in un posto c'è una finestra che magari da sul verde o comunque che non c'è il passaggio di le macchine continuamente che con gli scarichi quindi magari vediamo magari se siamo in città faremo questo esercizio nel momento in cui le macchine non ci sono o il mattino presto o comunque nel momento in cui c'è meno traffico in modo di poter respirare l'aria più pulita che possiamo. Cosa altra molto molto bella da fare è chiaramente chi va in montagna c'è chi spesso è abituato di fare una gita fuori porta quando 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 si è fuori dal lavoro specialmente per chi lavora tante ore sempre chiuso sicuramente uscire a sabato e domenica e fare la l'escursione è molto bello chiaramente facendo cambiando luogo ogni volta il cambiare luogo sicuramente è molto utile perché comunque ci lascia un po di background di freschezza nel senso di scoperta alle persone piacciono molto agli uomini in generale l'essere umano piace scoprire cose nuove anche la nostra mente da una maggiore giovinezza di interiore una maggiore freschezza e una maggiore soddisfazione il fatto di scoprire cose nuove e quindi fare un'escursione anche non tanto lontano se non possiamo permettercelo comunque non che ci stanchiamo perché spesso diventa agonismo uno va sulla montagna poi deve farsi delle scarpinate terribili a meno che non gli piaccia proprio così e allora va bene però fare una passeggiata piacevole con un picnic con le proprie cose in un posto verde fare le proprie respirazioni dovute in modo di fare qualche esercizio yoga se li conoscete sicuramente sono le cose più consigliate per fare in modo che il nostro sistema immunitario le nostre cellule si rinvigoriscano dopo il periodo di chiusura che abbiamo avuto e anche di mancanze di ossigeno quindi sicuramente puntate molto su riossigenare fare molti esercizi all'aperto prendere il sole altra cosa importante quindi la finestra aperta respirare profondamente qualche esercizio yoga farsi minestroni pieni di vitamine con le cose più sfizievoli che potete conoscere e le cose più impensate compreso anche il tarassacco che troviamo dappertutto nei prati il tarassacco è disintossicante quindi ve lo consiglio proprio lo trovate almeno qui dove abito io e dappertutto e anche un po' dappertutto in giro quindi anche le piante selvatiche all'inizio si incomincia con un manuale poi man mano si si riconoscono a vista queste piante benefiche più sono tenaci e persistenzi diciamo infestanti e più sono buone fanno bene alla salute tutte queste cose sono sono importanti per per avere un sistema immunitario forte è un buon umore perché aiuta anche l'umore essere più contenti e l'ultima cosa che vi consiglio sempre per l'estate ma non solo per l'estate più anche in particolar modo in generale ma adesso che c'è il sole di prenderlo chiaramente quelle dovute proporzioni per non bruciarsi e prenderlo costantemente perché è molto importante proprio per la nostra salute in generale e anche per l'umore e quindi vi raccomando a voi di amarvi un po perché importante volersi bene per fare tutte queste piccoli rituali i rituali delle curarsi di voler bene noi e anche le persone che abbiamo vicino sono molto importanti perché questa armonia poi ci aiuta a lasciare andare le problematiche della giornata ed essere più positivi fare in modo tale che le cose non siano più così difficili da affrontare ma più e più piacevoli più più semplici come farsi un bel minestrone vi ringrazio dell'attenzione per questa puntata e poi ci vedremo il prossimo martedì con qualche cos'altro di carino magari parleremo di cose più più artistiche più creative da inventarsi durante l'estate quando siamo in giro anche perché no possiamo dipingere anche se non siamo pittori o comunque creare la nostra area creativa in modo tale di fare in modo di sciogliere il nostro inconscio e fare in modo che lui ci parli e ci dica delle cose parlare con noi stessi col nostro inconscio prossimo incontro un abbraccio forte e buona estate a tutti voi e siate felici ciao da maria rosa